La locanda della tormenta presenta La mummia di Sir Arthur Conan Doyle Buon ascolto 1 È probabile che non si giungerà mai a dare un giudizio certo e risolutivo sui rapporti di Edward Bellingham con William Monkaus Lee e sui motivi del grande terrore provato da Abercrombie Smith È un fatto che possediamo una vasta e nutrita relazione dello stesso Smith ed è le conferme che riuscì ad avere dall'inserviente Thomas Stiles dal reverendo Plumtree Patterson membro dell'Hall College e da quelli che si imbatterono per caso in quella strana ed enigmatica serie di eventi Ciò nonostante per la maggior parte i fatti si basano sulle ammissioni del solo Smith e la maggior parte dei lettori immaginerà più verosimile che un cervello pur nobile e controllato possa essere anche un po' alterato nel suo funzionamento piuttosto che accettare che il corso della natura sia stato abbandonato in pieno giorno in un così celebre e luminoso centro di cultura quale l'Università di Oxford Comunque, allorché pensiamo a quanto sia sottile e tortuoso questo sentiero della natura a quanto indistintamente riusciamo a ricostruirlo nonostante tutti i lumi della nostra scienza e a quanto grandi e terribili siano le possibilità che si intravedono al di là dell'oscurità da cui tutto è avvolto concludiamo che solo un uomo audace e fiducioso riuscirà a porre un limite ai misteriosi e solitari sentieri per i quali lo spirito umano può aggirarsi In un'ala di quello che si chiama Old College a Oxford c'è una torretta d'angolo straordinariamente antica il pesante arco che sovrasta l'ingresso al centro si è piegato in giù sotto il peso degli anni e i grigi blocchi di pietra chiazzati di licheni sono tenuti insieme da tre foli d'edera come se questa li avesse stretti in un abbraccio materno per proteggerli contro la pioggia e altre intemperie dall'ingresso una scala di pietra chiocciola sale verso l'alto passando per due pianerottoli e terminando al terzo i gradini hanno perso la loro forma e sono stati incavati dal passo di tante generazioni di aspiranti alla sapienza la vita è passata per quella scala chiocciola scorrendo come acqua e comportandosi come questa ha lasciato dietro di sé quegli incavi levigati dagli studenti pedanteschi nelle loro lunghe toghe dell'età dei plantageneti giussino i giovani di epoche più recenti quanto piena e forte è stata la marea di gioventù inglese passata per di là e che cosa è rimasto oggi di tutte quelle speranze di quelle contese di quelle ardenti energie se non pochi graffi su una pietra tombale in qualche cimitero del vecchio mondo e forse solo un pugno di polvere in una bara a pezzi resistono ancora le scale silenziose e il vecchio muro grigio con stemmi interzati in sbarra e croci di Santa Andrea e altri emblemi araldici ancora distinguibili sulla sua superficie simili a ombre grottesche proiettate indietro dai giorni del passato nel maggio del 1884 tre giovanotti occupavano i tre appartamentini che si affacciavano su ciascuno dei pianerottoli ogni appartamento era formato soltanto da due stanze un soggiorno e una camera da letto mentre le due stanze corrispondenti del piano terra erano utilizzate una come carbonaia l'altra come camera dell'inserviente Thomas Stiles il cui compito era servire i tre giovanotti che abitavano sopra a destra e a sinistra c'era una fila di aule e di uffici così che gli abitatori della torretta godevano di una certa tranquillità il che rendeva quelle camere popolari tra gli studenti più zelanti tali erano i tre che allora le occupavano Abercrombie Smith di sopra Edward Bellingham sotto di lui e William Monkaus Lee al piano più basso erano le dieci di una chiara notte di primavera e Abercrombie Smith se ne stava sprofondato nella sua poltrona con i piedi sul parafuoco e la pipa di radica fra le labbra sull'altro lato del caminetto in una poltrona gemella e anche lui assai rilassato riposava il suo vecchio compagno di scuola Geoffro Hasty tutti e due indossavano un completo sportivo poiché avevano trascorso la serata sul fiume ma a prescindere dal loro abbigliamento nessuno avrebbe potuto guardare i loro volti dall'aria svelta e risoluta senza capire che erano giovani amanti della vita all'aria aperta le cui menti e i cui gusti erano naturalmente rivolti a tutto ciò che fosse forte e virile anzi Hasty era primo vogatore dell'equipaggio del suo college e Smith era un rematore anche migliore ma un esame imminente aveva gettato la sua ombra su di lui tenendolo inchiodato sui libri salvo per le poche ore che ogni settimana dedicava ai suoi svaghi ristoratori dal mucchio di libri di medicina posati sul tavolo dalle osse disseminate qua e là dai modelli e dalle tavole anatomiche si capiva sia l'estensione sia la natura dei suoi studi mentre un paio di bastoni da scherma e una serie di guantoni sulla mensola del caminetto facevano intendere di quali mezzi si servisse per tenersi in esercizio con l'aiuto di Asti in uno spazio ridotto al massimo e senza allontanarsi dalla sua stanza si conoscevano l'un l'altro molto bene così bene che ora se ne potevano star seduti in quel silenzio rilassante che rappresenta forse l'espressione più alta dell'amicizia prendi un po' di whisky disse infine Abercrombie Smith tra una raffica e l'altra di pioggia quello scozzese nel boccale l'irlandese nella bottiglia no grazie sono in pieno allenamento per le regate e quando mi alleno non bevo liquori e tu che stai facendo io sto studiando sodo anch'io penso sia meglio lasciarlo perdere Asti a noi e ricaddero di nuovo in un silenzio soddisfatto a proposito Smith chiese Asti poco dopo hai fatto la conoscenza degli altri due colleghi della torretta ah solo un cenno quando ci incontriamo nient'altro io sarei inclino a lasciare le cose come stanno so qualcosa sul conto di tutti e due non molto ma quanto mi basta non credo che me li stringerei al petto se fossi in te non che ci sia molto da ridire sul conto di Monkhaus Lee ti riferisci a quello magro? precisamente è un tipo piccolino e signorile non credo che sia cattivo ma non puoi conoscere lui senza conoscere Bellingham intendi adesso quello grasso? appunto quello grasso ed è un uomo che io per quel che ne so preferirei non conoscere che c'è che non va allora? beve? gioca? è forse un mascalzone? non sei solito farli per critico ah evidentemente non lo conosci quel tipo altrimenti non mi faresti queste domande c'è in lui qualcosa di odioso qualcosa che ricorda un rettile la sua vista mi fa venire sempre la nausea potrei classificarlo tra gli uomini affetti da vizi segreti un depravato tuttavia non è uno sciocco si dice che sia uno dei migliori nel suo ramo tra quelli che siano mai stati nel college medicina o studi classici lingue straniere ed è un asso Chillingworth lo incontrò non so dove oltre la seconda cateratta molto tempo fa e mi disse che chiacchierava con gli arabi proprio come se fosse stato dato alla luce allevato e svezzato tra loro parlava copto con i copti ebraico con gli ebrei e arabo con i beduini e tutti erano disposti a baciargli l'orlo della Redingoth vi sono da quelle parti dei vecchi eremiti appollaiati sulle rupi che guardano torvamente e sputano sugli stranieri che per caso passano di lì ebbene quando videro questo bel tipo di Bellingham prima che lui avesse pronunciato cinque parole si erano già buttati pancia a terra e si contorcevano Chillingworth disse di non aver mai visto niente di simile sembrava che Bellingham considerasse ciò come spettante di diritto e camminava tutto impettito tra di loro ammonendoli con aria paterna se la cavava piuttosto bene per essere uno studente dell'all college non ti pare perché dici che non si può conoscere lì senza conoscere questo Bellingham perché Bellingham è fidanzato con sua sorella Evelyn una fanciulla così deliziosa caro Smith conosco bene tutta la famiglia ed è disgustoso vedere quel brutto accanto a lei un rospo e una tortora ecco cosa mi fanno pensare quei due Abercrombie Smith sogghignò e batté la pipa contro il lato della griglia per far cadere la cenere vecchio mio hai scoperto tutte le tue carte che bel tipo pronto giudicare a vanvera geloso e malpensante non hai realmente niente contro di lui eccetto ciò Evelyn la conosco da quando era alta come questa pipa di ciliegio e non mi va di vederla correre rischi e questo è un rischio lui ha l'aspetto di una bestia e ha un carattere bestiale un carattere maligno non ricordi la sua zuffa con Log Norton no dimentichi sempre che sono appena una matricola ah è vero beh è avvenuta l'ultimo inverno naturalmente tu conosci la stradina che corre sull'argine del fiume erano in parecchia per correrla con Bellingham davanti quando videro venire dalla parte opposta una vecchia venditrice era piovuto sai in che stato si riducono i campi dopo la pioggia in quel punto l'alzaia correva tra il fiume e una grande pozzanghera quasi altrettanto ampia ebbene cosa fa questo porco blocca il sentiero e poi spinge la vecchia nel fango e puoi facilmente immaginare che ne sia stato della donna e della sua merce fu una vera e propria mascalzonata e Long Norton che è il giovane più educato che io abbia mai conosciuto gli disse quello che pensava della sua condotta una parola tirò l'altra e la conclusione fu che Norton fece assaggiare il suo bastone alla schiena del gaglioffo il fatto suscitò un bel pandemonio ed è un piacere vedere in che modo Bellingham guardi Norton quando si incontrano adesso per giove Smith sono quasi le undici non aver fretta accenditi di nuovo la pipa no no non più sono in periodo d'allenamento me ne sono stato qui a pettegolare mentre avrei dovuto essere già al sicuro a letto con le coperte ben rimboccate prendo in prestito il tuo teschio se puoi darmelo è un mese che William sa il mio e prenderò anche gli ossicini del tuo orecchio se sei certo di non averne bisogno e grazie mille lascia perdere la borsa posso portarmeli benissimo sotto il braccio buonanotte mio caro e non dimenticare ciò che ti ho detto a proposito del tuo nuovo vicino due quando Hastie con il suo bottino di pezzi anatomici finì di far fracasso scendendo per la scala a chiocciola Abercrombie Smith lanciò la sua pipa nel cestino della carta straccia e avvicinata di più la sedia alla lampada si immerse in un formidabile volume rilegato in verde ricco di grandi tavole a colori riproducenti quel misterioso regno interno di cui noi siamo monarchi sfortunati e indifesi sebbene matricola a Oxford lo studente non lo era in medicina poiché aveva studiato per quattro anni a Glasgow e a Berlino e l'esame che stava per affrontare lo avrebbe definitivamente laureato medico con la bocca energica la fronte spaziosa un viso dai lineamenti netti e in qualche modo duri era un uomo che seppur privo di un ingegno brillante era tuttavia così tenace così paziente così forte che alla fine avrebbe potuto superare ingegni ben più appariscenti un uomo che riesca a farsi valere tra scozzesi e tedeschi del nord non è tipo che si possa fare arretrare Smith si era fatto un nome a Glasgow e a Berlino e ora era deciso a fare altrettanto ad Oxford se ciò poteva essere realizzato grazie all'intenso lavoro e alla sua passione aveva letto per circa un'ora e le lancette del rumoroso orologio da viaggio posato sul tavolinetto stavano per sovrapporsi insieme sulle dodici quando un improvviso rumore colpì l'orecchio dello studente era un suono acuto piuttosto stridulo simile al rantolo similante di un uomo che respiri affannosamente per qualche forte emozione Smith mise giù il libro e tese l'orecchio poiché né al di sopra né ai lati del suo appartamento c'era nessuno il suono che aveva interrotto la sua lettura non poteva che provenire dall'appartamento dell'inquilino di sotto proprio di quell'inquilino di cui Husty aveva fatto un ritratto così ripugnante di lui Smith sapeva solo che era un tipo di studioso dal volto flaccido e pallido e dai modi silenziosi un uomo la cui lampada gettava una striscia di luce dorata dall'antica torretta anche dopo che lui aveva spento la sua questa comune abitudine di far tardi aveva creato un certo tacito legame tra i due era piacevole per Smith quando le ore scorrevano lentamente verso l'alba sentire che c'era un altro così vicino che quanto lui stimava così poco il proprio sonno anche ora mentre i suoi pensieri erano rivolti a lui i sentimenti di Smith erano benevoli Asti era un bravo ragazzo ma era semplice di fibra resistente senza immaginazione o capacità di comprendere non riusciva a tollerare deviazioni da quello che considerava il modello esemplare della virilità se un uomo non poteva vantarsi di aver frequentato scuole private per i suoi studi costui per Asti era fuori della società umana come molti che sono robusti era incline a confondere la costituzione fisica con il carattere ad addebitare a una deficienza di principi quella che era una deficienza circolatoria Smith dotato di una mente più salda conosceva i pregiudizi dell'amico e ora li teneva in debito conto mentre pensava all'inquilino di sotto lo strano rumore non si ripetè e Smith stava per dedicarsi di nuovo ai suoi studi quando improvvisamente il silenzio della notte fu rotto da un grido rauco un vero e proprio urlo era il grido di un uomo agitato e scosso sino a perdere ogni controllo di sé Smith balzò dalla sedia e lasciò cadere il libro era un uomo di tempra abbastanza salda ma in quell'improvviso e sfrenato urlo d'orrore c'era qualcosa che gli ghiacciò il sangue e gli fece accapponare la pelle udito in quell'ora e in quel luogo spingeva la sua mente a pensare a mille fantastiche possibilità doveva precipitarsi al piano di sotto o era meglio attendere egli condivideva in pieno l'odio dei suoi connazionali per ogni genere di scenate e conosceva troppo poco il suo vicino per voler minimamente ficcare il naso nei suoi affari per un attimo rimase in dubbio e mentre ancora faceva pari e dispari per decidere cosa fare sentì per la scala un rumore di passi rapidi e il giovane Monkaus Lee mezzo svestito e pallido come la cenere irruppe nella stanza vieni giù boccheggiò Bellingham Bellingham sta male Abercrombie Smith lo seguì da presso al piano inferiore nel soggiorno che si trovava sotto il suo e preso com'era dall'argomento in questione non poté che gettare uno sguardo stupito intorno a sé mentre attraversava la soglia era quella una stanza quale non aveva mai visto prima un museo piuttosto che uno studio pareti e volta erano fittamente coperti da un migliaio di strane reliquie provenienti dall'Egitto e dall'Oriente alte figure angolose che portavano armi o bagagli incedevano a lunghi passi in un bizzarro fregio tutto intorno alla stanza più in alto c'erano statue con teste di toro cicogna gatto gufo immagini di faraoni dagli occhi a mandorla e corone di vipere idoletti egiziani in lapislazzuli a forma di scarabeo Horus Iside e Osiride facevano capolino da nicchie scaffali mentre dal soffitto pendeva legato con un doppio nodo e posto di traverso un vero figlio del vecchio Nilo un enorme coccodrillo con le fauci spalancate nel centro di quella stanza c'era un ampio tavolo quadrato ricoperto di carte bottiglie e foglie secche di graziose piante simili a palme tutti questi svariati oggetti erano stati ammucchiati insieme per far spazio a un sarcofago che era stato rimosso dal muro come si capiva dallo spazio l'ha rimasto vuoto e poggiato di traverso sulla parte anteriore del tavolo la stessa mummia un'orrida cosa nera avvizzita simile a una testa carbonizzata attaccata a un trongo grinzoso era per metà fuori del sarcofago e la sua mano simile a un artiglio come lo scarno avambraccio poggiavano sul tavolo al sarcofago era appoggiato un vecchio ingiallito rotolo di papiro e di fronte in una poltrona di legno sedeva il titolare della stanza con la testa gettata indietro gli occhi sbarrati e colmi d'orrore rivolti verso il coccodrillo che pendeva dalla volta e con le pesanti labbra illividite che ansavano rumorosamente ad ogni respiro mio dio sta morendo gridò disperato Moncaus Lee era questi un giovanotto snello di bell'aspetto di colorito olivastro e dagli occhi scuri di tipo spagnolo piuttosto che inglese e i suoi modi impetuosamente celtici contrastavano con la flemma sassone di Abercrombie Smith solo un collasso penso disse lo studente di medicina dai dammi una mano ecco prendilo per i piedi ora sul divano ce la fai con un calcio a buttar via tutti quei piccoli idoli di legno santo cielo che disordine ora andrà tutto bene se gli apriamo il colletto e gli diamo un po' d'acqua che diamine stava combinando non lo so io l'ho sentito gridare forte sono corso su lo conosco molto bene vedi è stato molto gentile da parte tua scendere il suo cuore batte con un paio di nacchere disse Smith che aveva appoggiato la mano sul petto di Bellingham ancora privo di sensi sembra che qualcosa l'abbia spaventato a morte dai spruzzagli dell'acqua in faccia santo cielo che viso stravolto l'espressione del poveretto era realmente strana e veramente ripugnante poiché il colorito e il profilo erano in ugual misura innaturali era sbiancato in volto non del pallore provocato dal terrore ma ad un bianco del tutto esangue come il lato inferiore di una sogliola era molto grasso ma dava l'impressione di essere stato ancora più grasso una volta poiché la pelle gli cascava formando pieghe e grinze ed era profondamente segnata da una rete di rughe capelli corti e ispidi gli si rizzavano sul cranio dal quale spuntava un paio d'orecchie a sventola spesse e rugose i suoi occhi grigio smorto erano ancora aperti e le pupille dilatate sporgevano paralizzate in uno sguardo d'orrore mentre lo guardava Smith ebbe l'impressione di non aver mai visto l'allarme della natura così chiaramente dipinto sul volto di un uomo e la sua mente prese in più seria considerazione gli avvertimenti dati gli da Hastie un'ora prima cosa diavolo può averlo terrorizzato in quel modo? chiese io credo la mummia la mummia? e in che modo? io non lo so è una cosa lurida e malsana mi auguro che la lasci perdere è il secondo spavento che mi ha procurato l'inverno scorso è avvenuta la stessa cosa lo trovai in queste stesse condizioni con quell'orribile cosa di fronte a lui e cosa se ne fa di questa mummia? oh vedi egli è un tipo originale è la sua mania riguardo tutte queste cose egli ne sa più di qualunque altro in Inghilterra ma io preferirei che così non fosse guarda sta riprendendo i sensi una lieve sfumatura di colorito stava tornando sulle guance cadaveriche di Bellingham e le sue palpebre cominciarono a sbattere come le vele al cadere del vento chiuse e aprì le mani tirò un lungo ed esile respiro tra i denti e improvvisamente levando con un sussulto il capo si guardò intorno disorientato non appena il suo sguardo cadde sulla mummia balzò in piedi dal sofà afferrò il rotolo di papiro lo cacciò in un cassetto lo chiusa a chiave e quindi barcollando si buttò di nuovo sul divano che sta succedendo chiese che volete voi due hai strillato come un indemoniato ed hai fatto un chiasso terribile rispose Moncausli se il nostro vicino del piano di sopra non fosse venuto giù certo non so come me la sarei cavata con te ah è Abercrombie Smith disse Bellingham levando lo sguardo verso di lui sei stato veramente gentile a venire da me che sciocco sono oh mio dio quanto sono sciocco affondò il viso nelle mani e proruppe in uno scoppio dopo l'altro di riso isterico ehi smettila gridò Smith scuotendolo violentamente per le spalle i tuoi nervi sono sotto sopra devi smetterla con questi trucchetti di mezzanotte con le mummie o finirai con l'uscire di senno hai tutti i nervi tesi ah mi chiedo disse Bellingham se tu saresti calmo quanto me se avessi visto che cosa ah niente volevo dire che mi chiedo se riusciresti a star seduto accanto a una mummia di notte senza mettere a dura prova il tuo sistema nervoso non dubito che tu abbia ragione può darsi che ultimamente abbia preteso un po' troppo da me stesso ma ora sto bene per favore però non andartene aspetta soltanto qualche minuto finché non mi sia del tutto ripreso in questa stanza non si respira osservò lì spalancando la finestra e lasciando entrare l'aria fresca della notte è resina balsamica disse Bellingham sollevò una delle foglie secche di palma dal tavolo e l'avvicinò al tubo di vetro della lampada la foglia bruciò involute di fumo denso e un odore pungente riempì la stanza questa è una pianta sacra la pianta dei sacerdoti fece notare conosci le lingue orientali Smith? no niente neanche una parola la risposta sembrò liberare da un peso la mente dell'egittologo a proposito quanto tempo è passato tra il momento in cui siete accorsi e il mio rinvenimento non molto 4 o 5 minuti all'incirca mi sembrava appunto che non fosse stato molto disse tirando un lungo respiro ma che cosa strana è lo stato di incoscienza non c'è nulla a cui possa essere paragonato dalle mie sensazioni non riuscirei a dire se sia durato secoli o settimane ora quel gentiluomo sul tavolo fu impacchettato nei giorni della diciassettesima dinastia circa 40 secoli fa eppure se potesse ritrovare la favella ci direbbe che questo lasso di tempo non è stato altro che un battere di palpebre per lui è una mummia singolarmente pregevole Smith Smith si avvicinò al tavolo e con occhio professionale esaminò la forma nera e contorta che gli stava di fronte i lineamenti sebbene orribilmente scoloriti erano perfetti e i due occhietti simili a noccioli erano nascosti nelle nere orbite incavate la pelle chiazzata era tesa da osso a osso e un ciuffo arruffato di capelli neri e ruvidi gli ricadeva sulle orecchie due denti sottili come quelli di un topo sporgevano sull'abbizzito labbro inferiore da quell'orrida cosa nonostante la sua posizione rannicchiata con le articolazioni piegate e la testa che sporgeva in avanti spirava una strana forza che faceva venire la nausea a smith le scarne costole ricoperte da una pelle simile a carta pecora erano ben visibili e così l'addome incavato color cuoio con la lunga incisione su cui l'imbalsamatore aveva lasciato il suo marchio ma gli arti inferiori erano avvolti in bende ruvide e gialle una quantità di chiodi di mirra e di cassia era sparsa sul corpo e disseminata nell'interno del sarcofago non ne conosco il nome disse bellingham sfiorando con la mano la testa avvizzita come vedete manca il sarcofago esterno con le iscrizioni l'otto numero 249 per ora non ha altro nome lo vedete segnato sulla cassa era il numero assegnatogli nell'asta in cui l'ho pescato ai suoi tempi deve essere stato veramente un bel pezzo d'uomo osservò Abercrombie Smith ha a dir poco un gigante la sua mummia è lunga 6 piedi e 7 pollici e laggiù deve essere stato un gigante poiché la sua non è mai stata una razza molto robusta sentite un po' queste ossa grosse e nodose deve essere stato un tipo pericoloso da affrontarsi forse proprio queste mani hanno partecipato alla costruzione delle piramidi suggerì Monkausli guardando col disgusto negli occhi le mani ridotte a sporchi e contorti artigli non c'è nemmeno da pensarlo questo tipo è stato salato in una bella soluzione di carbonato di sodio ed è stato curato secondo tutte le regole non usavano lo stesso trattamento ai manovali sale o bitume era sufficiente per loro è stato calcolato che questa specie di mummificazione venisse a costare circa 730 delle nostre attuali sterline il nostro amico era perlomeno un nobile che ne pensi di quella breve iscrizione che sta vicino ai suoi piedi smith ti ho detto che non conosco le lingue orientali ah è vero me l'hai detto beh quello è il nome dell'imbalsamatore secondo me deve essere stato un lavoratore molto coscienzioso mi chiedo quanti lavori di oggi potranno resistere tra 4000 anni continuò a parlare rapidamente e in tono leggero ma da Bercrombie smith non sfuggì che palpitava ancora di paura le sue mani erano scosse da un tremito gli tremava il labbro inferiore e in qualsiasi direzione volgesse lo sguardo i suoi occhi finivano sempre col rivolgersi al suo macabro compagno nonostante tutta la sua paura tuttavia si coglieva una traccia di trionfo nel tono della sua voce e nel suo comportamento gli occhi gli brillavano e il suo passo mentre camminava per la stanza era svelto e baldanzoso aveva l'aria di uno che sia passato attraverso una dura prova e che ne porti ancora i segni su di sé ma dalla quale sia stato aiutato a raggiungere il proprio scopo vuoi già andartene esclamò Bellingham non appena Smith si alzò dal divano sembrava che la prospettiva della solitudine facesse piombare di nuovo su di lui la folla dei suoi timori e protese una mano per trattenere Smith si adesso devo andare ho il mio lavoro da fare ora ti sei rimesso del tutto però è mia opinione che il tuo sistema nervoso debba affrontare studi meno morbosi oh di regola non sono nervoso e già altre volte mi è capitato di spogliare le mummie delle loro bende l'ultima volta però sei svenuto osservò Moncaus Lee ah sì è vero ebbene dovrò prendere dei tonici per i nervi o sottopormi all'elettroterapia vai via anche tu Lee farò ciò che desideri Ned allora allora vengo giù con te e mi arrangerò sul tuo divano buonanotte Smith mi dispiace di averti dato fastidio con la mia insensatezza si dettero la mano e quando lo studente di medicina inciampando per la irregolare scala chiocciola salì nel suo appartamento udì una porta chiudersi a chiave e i passi dei suoi due nuovi conoscenti scendere al primo piano tre in questo bizzarro modo ebbe inizio la conoscenza tra Edward Bellingham e Abercrombie Smith una conoscenza che almeno quest'ultimo non desiderava spingere oltre Bellingham invece sembrava essersi incapricciato del suo vicino che parlava chiaro e cercava ad entrare nelle sue grazie in modo tale che difficilmente avrebbe potuto essere respinto senza far ricorso a maniere veramente brutali si recò due volte a far visita a Smith per ringraziarlo del soccorso prestatogli e in seguito gli fece parecchie altre brevi visite per portargli libri giornali e per altre di quelle cortesie che possono scambiarsi due vicini egli era come subito Smith scoprì uno che leggeva parecchio di molteplici interessi e dotato di una memoria straordinaria le sue maniere inoltre erano così piacevoli e suadenti che dopo un po' si dimenticava del suo aspetto repellente era un compagno non spiacevole per chi fosse stanco e annoiato e Smith dopo un po' si accorse di desiderarne le visite che cominciò anche a ricambiare il futuro medico per quanto ne riconoscesse l'indubbia intelligenza tuttavia aveva l'impressione di cogliere in lui una certa traccia di follia di tanto in tanto si metteva a parlare con uno stile elevato e retorico che mal si accordava con la semplicità della sua vita è una cosa meravigliosa sentire che è possibile dominare le potenze del bene e del male un angelo della provvidenza oppure un demone della vendetta Lee beh Monkaus Lee è un bravo ragazzo onesto ma senza energia o ambizione non sarebbe un buon socio per un uomo dotato di grande spirito di iniziativa come socio non farebbe per me assiffatte insinuazioni e allusioni il flemmatico Smith continuando a tirar boccate dalla pipa si limitava ad aggrottare le sopracciglia e a scuotere il capo oltre a consigliargli di non fare tardi e di apprezzare di più l'aria pura ultimamente Bellingham aveva preso un'abitudine che come Smith ben sapeva di frequente preannuncia all'indebolirsi delle facoltà mentali egli sembrava che parlasse da solo spesso di notte a tarda ora quando non era possibile che vi fossero visite da lui Smith sentiva venire dal basso la sua voce impegnata in un monologo attutito smorzato quasi un sussurro eppure chiaramente udibile nel silenzio questo mormorio annoiava e distraeva lo studente cosicché fu costretto a parlargliene più di una volta Bellingham però arrossì al rimprovero e negò decisamente di aver mai emesso un solo suono però sembrava che la faccenda lo infastidisse più di quanto ci si potesse aspettare avesse pure in qualche modo Abercrombie Smith dubitato delle proprie orecchie non ebbe da andare lontano per una conferma infatti Tom Stiles il piccolo e grinzoso inserviente che aveva accudito alle necessità degli inquilini della torretta da tempo immemorabile fu posto di fronte allo stesso penoso problema capitò quindi che una mattina mentre metteva in ordine la stanza del terzo piano disse scusate signore pensate che il signor Bellingham sia completamente a posto completamente a posto si signore intendo se abbia il cervello a posto e perché non dovrebbe averlo a posto ebbene signore io non lo so le sue abitudini però ultimamente sono cambiate non è più quello di una volta sebbene io mi permetta di dire che non è mai stato come uno di quei gentiluomini cui sono abituato ossia il signor Asti e voi stesso signore quello ha preso l'abitudine di parlare da solo in un modo che fa paura mi chiedo se non infastidisca anche voi io beh io non so come regolarmi con lui signore non capisco che vi importi della faccenda Stiles ebbene non può non interessarmi signor Smith forse è vero va oltre i miei doveri ma io non posso farci niente talvolta mi sento un po' come se fossi madre e padre per i giovani gentiluomini a me affidati quando le cose non vanno bene la responsabilità ricade tutta su di me ma per il signor Bellingham signore vorrei sapere che cos'è che cammina qualche volta nella sua stanza quando lui è fuori e la porta è chiusa chiave dall'esterno eh voi state farneticando Stiles forse è così signore ma ve lo posso giurare che l'ho sentito con queste mie orecchie più di una volta stupidaggini Stiles va bene signore suonate se avete bisogno di me Abercrombie Smith dette scarsa importanza al pettegolezzo del vecchio inserviente ma pochi giorni dopo avvenne un piccolo incidente che lasciò in lui una sgradevole impressione e lo costrinse a ricordare le parole di Stiles Bellingham era venuto a fargli visita una notte sul tardi e lo stava intrattenendo con un'interessante descrizione delle tombi rupestri di Beni Hassan nell'Alto Egitto quando Smith il cui udito era notevolmente fine sentì distintamente il rumore di una porta che si apriva proveniente dal piano sottostante e qualcuno è entrato uscito dalla tua stanza fece notare Bellingham balzò in piedi e per un momento rimase senza sapere cosa fare con l'espressione di chi sia mezzo impaurito e mezzo incredulo sono certo di averla chiusa a chiave non ho alcun dubbio di averla chiusa a chiave nessuno avrebbe potuto aprirla perbacco sento giusto ora che qualcuno sta salendo quassù disse Smith Bellingham si precipitò fuori della porta la sbatté rumorosamente dietro di sé e scese a precipizio le scale Smith lo sentì fermarsi a metà della rampa e credette di cogliere un bisbigliare un momento dopo sentì che la porta del piano di sotto veniva chiusa una chiave cigolò in una serratura e Bellingham con il volto pallido e tutto sudato risalì ancora una volta le scale e rientrò nella stanza tutto è a posto disse lasciandosi cadere in una sedia era quello sciocco d'un cane spingendo ha aperto la porta non capisco come mai mi sia dimenticato di chiuderla a chiave non sapevo che tenessi un cane disse Smith guardando con aria pensosa il volto turbato del compagno sì non l'ho da molto me ne devo liberare è un grosso fastidio deve esserlo se per te è così difficile impedirgli di uscire avrei pensato che sarebbe stato sufficiente chiudere la porta senza doverla serrare a chiave io desidero evitare che il vecchio Stiles lo faccia uscire è un cane di un certo valore vedi e sarebbe seccante perderlo anche a me piacciono i cani disse Smith guardandolo ancora fissamente con la coda dell'occhio forse mi permetterai di dargli un'occhiata senz'altro ma temo di non poterti accontentare questa notte vabbè adesso ho un appuntamento va bene quell'orologio vabbè allora sono già in ritardo di un quarto d'ora mi scuserai ne sono certo afferrò il cappello e uscì in fretta dalla stanza nonostante l'appuntamento Smith sentì che rientrava nella sua stanza e chiudeva a chiave la porta dall'interno quell'incontro lasciò nella mente dello studente di medicina un'impressione sgradevole Bellingham gli aveva mentito e mentito così goffamente che pareva avesse disperatamente bisogno di nascondere la verità Smith sapeva che il suo vicino non aveva cani sapeva anche che il passo che aveva udito per le scale non era un passo d'animale ma se così non era allora che cosa avrebbe potuto essere c'era la dichiarazione del vecchio Stiles circa qualcosa che era solito camminare di tanto in tanto per la camera quando il padrone era assente che si trattasse forse di una donna Smith protendeva piuttosto per questa ipotesi in tal caso se la cosa fosse stata scoperta dalle autorità avrebbe voluto dire per Bellingham ignominia ed espulsione e perciò la sua ansietà e le sue menzogne erano forse attribuibili a ciò eppure era inconcepibile che uno studente potesse tenere una donna nelle sue stanze senza essere immediatamente scoperto qualunque potesse essere la spiegazione c'era sotto qualcosa di losco e Smith non appena tornò ai suoi libri decise di scoraggiare qualsiasi altro approccio da parte del vicino dalla parola sua dente ma dall'aspetto poco simpatico 4 ma era destino che quella notte il suo lavoro subisse delle interruzioni aveva appena riannodato i fili spezzati del suo lavoro quando dal basso si sentì qualcuno salire i gradini a tre per volta e Asti in giacca e pantaloni sportivi irruppe nella stanza ancora studiare disse lasciandosi cadere nella sua poltrona abituale che bel tipo di sgobbone scommetto che un terremoto potrebbe ridurre in polvere Oxford e tu rimarresti seduto placidamente tra le rovine con i tuoi libri tuttavia non ti annoierò a lungo mi fumo tre boccate e me ne vado che novità ci sono allora domandò Smith mentre con l'indice spingeva il tabacco nella sua pipa d'erica bianca ah niente di molto importante Wilson ha fatto 70 per le matricole si dice che lo faranno giocare al posto di Buddy Comb perché Buddy Comb è completamente fuori forma di solito si arrangiava bene nei lanci ma ora si limita ai mezzi lanci alle palle troppo lunghe mezzo destro suggerì Smith con la gravità con cui gli universari parlano di sport tende troppo all'anticipo ed ha difficoltà con i tiri da destra e porta troppo avanti la mazza sul campo bagnato quello era pericoloso oh a proposito hai sentito ciò che è accaduto a Long Norton di che si tratta? è stato aggredito aggredito? si proprio mentre stava svoltando da High Street a un centinaio di metri al di qua dell'ingresso del college ma ma chi? ah è questo il problema se tu dicessi che cosa non sbaglieresti quel Norton è pronto a giurare che non era un essere umano e in verità stando ai graffi che ha sul collo sarei quasi propenso a dargli ragione e che cosa allora siamo tornati ai fantasmi? Abercrombie Smith espresse con uno sbuffo di fumo il suo scientifico disprezzo ebbene no non credo neanch'io che si debba proprio pensare a ciò sono propenso a credere che qualche saltimbanco abbia perduto la sua scimmia e che la bestia sa giri da queste parti se è così una bella condanna non gliela toglierà nessuno Norton passa per quel punto ogni notte circa alla stessa ora c'è un albero un grande olmo che sporge basso sul sentiero del giardino di Rainey Norton pensa che il coso gli sia saltato addosso dall'albero in ogni caso per poco non è stato strozzato da due braccia che dice lui erano forti e sottili quanto dei nastri d'acciaio ma egli non ha visto niente soltanto quelle braccia bestiali che lo stringevano e lo stringevano quando gridò con tutte le sue forze accorsero un paio di colleghi e il coso scomparve al di là del muro con l'agilità di un gatto per tutto il tempo Norton dice che non è riuscito a vederlo ne è rimasto profondamente scosso però gli ha fatto cambiare colore più di una vacanza al mare uno strangolatore con ogni probabilità disse Smith ah è molto probabile ma Norton dice di no ma noi non ci curiamo di ciò che dice lo strangolatore chiunque dovesse essere aveva unghie lunghe ed era molto in gamba nel balzare al di là dei muri a proposito il tuo vicino sarebbe ben lieto se sapesse quanto è accaduto ce l'aveva con Norton e non è tipo per quel che so di lui da dimenticare i suoi debiti ma ehi amico che ti passa per la mente niente rispose bruscamente Smith era sobbalzato sulla sedia e sul suo volto si era di colpo disegnata l'espressione tipica di chi è improvvisamente colpito da una sgradevole idea beh mi è parso che qualcosa detto da me ti avesse punto sul vivo a proposito dall'ultima volta che ci siamo visti hai fatto amicizia con Bellingham vero? il giovane Monkhausen Lee mi ha detto qualcosa in questo senso sì ci vediamo ogni tanto è stato quassù da me un paio di volte bene tu sei cresciuto abbastanza e sei abbastanza grande per badare ai fatti tuoi non è proprio quello che corrisponde esattamente al mio ideale di giovanotto per quanto senza dubbio sia molto intelligente e robe del genere ma te ne accorgerai da solo lì è a posto è un ometto proprio come si deve vabbè arrivederci caro mio mercoledì otto giorni da adesso mi batto con Mullins per la coppa del vice cancelliere perciò ricordati di venire giù se non ti vedo prima il placido Smith mise giù la pipa e con flemma si dedicò di nuovo ai suoi libri ma nonostante tutta la buona volontà del mondo non riusciva a concentrarsi nello studio ci sorprendeva di continuo a ruminare sul tipo che abitava sotto di lui e sul piccolo mistero che aleggiava sulle sue stanze quindi i suoi pensieri si volgevano alla strana aggressione di cui aveva parlato Asti e al rancore che si diceva covasse Bellingham per la vittima dell'aggressione stessa queste due idee continuavano a far capolino insieme nella sua mente come se tra di esse vi fosse una qualche connessione strettissima eppure il sospetto era così confuso e vago che non sarebbe riuscito a esprimerlo con parole all'inferno Bellingham esclamò Smith gettando via il testo di patologia mi ha rovinato lo studio di questa notte il che è una ragione sufficiente se non ve ne fossero delle altre perché in futuro non me lo trovi più tra i piedi per dieci giorni lo studente si immerse nei suoi studi isolandosi così rigorosamente da non vedere né udire nessuno di suoi conquilini si chiudeva accuratamente nel suo appartamento nelle ore in cui Bellingham era solito venire a fargli visita e sebbene più di una volta sentisse bussare all'uscio si rifiutò decisamente di rispondere un pomeriggio tuttavia stava scendendo le scale quando proprio mentre vi passava davanti si spalancò la porta di Bellingham e ne venne fuori il giovane Monkaus Lee con gli occhi fiammeggianti e le guance olivastre incupite di rabbia lo tallonava Bellingham con la faccia grassa e malsana tutta fremente di ira maligna pezzo di sciocco si bilava te ne pentirai è molto probabile esclamò l'altro ricorda quel ti ti dico è finita non ne voglio più sentir parlare hai promesso in ogni modo oh manterrò la parola non parlerò ma preferirei vedere piuttosto la piccola Eva sottoterra una volta per tutta è finita lei farà ciò che dico io non vogliamo vederti più Smith non poteva evitare di udire tutto ciò ma accelerò la discesa perché non desiderava essere coinvolto nella loro disputa che tra i due ci fosse stata una lite seria era abbastanza chiaro e anche che lì era intenzionato provocare la rottura del fidanzamento della sorella Smith pensò alla similitudine di Asti del rospo e della tortora e fu lieto di pensare che alla faccenda fosse stata posta la parola fine la faccia di Bellingham quando questi era in preda a una violenta emozione non era piacevole a guardarsi non era un tipo al quale potesse essere affidata una fanciulla innocente mentre camminava Smith si chiedeva senza grande impegno che cosa potesse aver provocato quella lite e quale fosse la promessa fatta da lì che Bellingham sperava ansiosamente venisse mantenuta 5 arrivò il giorno della regata in cui avrebbe gareggiato Asti e Mullins e una marea di gente si stava avviando verso il fiume il sole di maggio brillava e le ombre scure degli alti olmi si allineavano sul giallo sentiero arretrate rispetto alla strada giacevano le grigie sedi dell'università e dalle loro alte bifore guardavano quella fiumana di gioventù scorrere così gaiamente dinnanzi a loro precettori vestiti di nero affettati funzionari palli di lettori giovani atleti abbronzati con cappelli di paglia e in giacche bianche o di flanella di vari colori tutti si affrettavano verso il sinuoso fiume azzurro che scorre lungo i prati di Oxford Abercrombie Smith con il fiuto dal vecchio vogatore si piazzò laddove sapeva che i contendenti si sarebbero dati battaglia se battaglia ci fosse stata udì il mormorio che annunciava il via e il grido crescente che accompagnava l'avvicinarsi delle imbarcazioni il rimbombo di piedi in corsa e le grida degli uomini nelle barche sul fiume sotto di lui un nugolo di giovanotti scamiciati e affannati passò correndo come un lampo davanti a lui e allungando il collo al di sopra delle loro spalle vide Asti passare vogando a 36 palate mentre il suo rivale con le 40 lo seguiva a una lunghezza Smith lanciò un urrà per il suo amico e tirato fuori l'orologio stava quasi per tornarsene a casa quando si sentì toccare su una spalla e si accorse che gli era accanto il giovane Monkaus Lee ti ho visto disse con tono timido e un'aria di scusa sai desidererei parlarti se potessi tu dedicarmi una mezz'oretta questo cottage è mio vi abito insieme con Hattinton del King's College entra devo rincasare presto disse Smith ora sto proprio sgobbando forte ma mi tratterò con piacere qualche minuto non sarei uscito se non fosse stato Parasti che è un mio caro amico è anche mio non ha uno stile magnifico Mullins non ce la faceva ma dai entra nel cottage è un bugigattolo ma è piacevole lavorarci durante i mesi estivi il cottage era una costruzione piccola quadrata con i muri bianchi porte e finestre verdi e un portico rustico gratticciata a una quarantina di metri dalla riva del fiume nell'interno la stanza principale era adattata alla buona a studio un tavolo da bete scaffali non verniciati pieni di libri e alcune oleografie di poco prezzo alle pareti un bricco borbottava su una spiritiera e sul tavolo c'era un servizio da te in un vassoio accomodiamoci su quella sedia e prendi pure una sigaretta disse lì permetti che ti riempia una tazza di tè sei stato molto buono a entrare poiché so che hai ben poco tempo disponibile sai volevo dirti che se fossi in tè cambierei immediatamente abitazione eh? Smith rimase a guardarlo a occhi spalancati con in mano il fiammifero acceso e nell'altra la sigaretta ancora spenta sì sì lo so deve sembrarti stranissimo e il peggio è che non posso esportare le ragioni poiché sono legato a una solenne promessa una promessa molto solenne ma però posso spingermi sino a dirti che non è igienico avere Bellingham come vicino per un po' ho l'intenzione di starmene qui accampato finché posso non è igienico che cosa vuoi dire? ah questo è quanto non devo dire ma ti prego accetta il mio consiglio e sloggia di là oggi abbiamo fatto una litigata del diavolo forse devi averci sentito poiché in quel momento so che stavi scendendo le scale sì in effetti mi sono accorto che avevi litigato è un individuo orribile Smith questo è l'unico termine che gli si adatti avevo nutrito in effetti dei dubbi sul suo conto sin dalla notte in cui svenne ti ricordi quando scendesti da lui gli ho parlato chiaramente oggi e mi ha detto cose che mi hanno fatto rizzare i capelli avrebbe voluto che io gli tenessi mano non sono di mente ristretta ma sono figlio di un pastore ecco e credo che vi siano cose che si situano ben al di là del lecito posso solo ringraziare il signore da averlo capito prima che fosse troppo tardi poi che stava per entrare nella mia famiglia tutto questo è molto carino lì disse bruscamente smith ma o hai parlato molto più di quanto avresti dovuto oppure molto meno io ti ho dato un avvertimento se l'avvertimento è realmente fondato non c'è promessa che possa vincolarti se vedessi un furfante in procinto di far saltare in aria con la dinamite qualche cosa nessun giuramento potrebbe impedirmi di ostacolarlo ma ma io non posso far nulla per ostacorarlo non posso far altro che metterti in guardia contro bellingham dai ma ciò è puerile perché dovrei aver paura di lui o di chi che sia non posso dirtelo posso soltanto insistere perché tu cambi casa dove stai adesso sei in pericolo mi guardo bene dal dire che bellingham desidera farti del male ma potrebbe accadere poiché proprio ora è un vicino molto pericoloso forse so più di quanto pensi disse smith guardando fissamente il viso serio e innocente del giovanotto supponi che ti dica che bellingham divide con qualcun altro il suo appartamento moncaus lee balzò dalla sua sedia senza riuscire a controllare la sua agitazione tu tu allora sai anso una donna lee ricadde nella sedia con un lamento le mie labbra sono suggellate non devo parlare bene disse smith levandosi in piedi tuttavia non posso permettere che mi si spaventi per buttarmi fuori da un appartamento che mi va a pennello non avrebbe proprio senso per me trasferire tutti i miei beni ed affetti solo perché tu dici che in qualche strana maniera bellingham potrebbe farmi del male credo che correrò proprio il rischio e rimarrò là dove sono e poiché sono quasi le 5 beh ti devo pregare di scusarmi salutò il giovane studente con poche parole piuttosto brusche e si avviò verso la torretta nel dolce pomeriggio primaverile sentendosi un po' turbato e un po' divertito come potrebbe esserlo qualsiasi uomo forte e di poca fantasia che fosse sotto la minaccia di un pericolo vago e indistinto l'unica concessione che smith si faceva sempre per quanto potesse essere soffocato dai suoi impegni di studio era la visita che due volte la settimana il martedì e il venerdì aveva l'abitudine di fare al dottor Plumpery Peterson che risiedeva a Farlingford distante circa un miglio e mezzo da Oxford Peterson era stato amico intimo del fratello maggiore di smith Francis ed era a scapolo con una buona cantina e un'ancora migliore biblioteca la sua abitazione rappresentava una piacevole meta per una passeggiata a passo svelto due volte la settimana perciò lo studente di medicina era solito incamminarsi verso quella meta per le oscure strade di campagna e trascorrere una piacevole oretta nello studio confortevole del dottor Peterson discutendo su un bel bicchiere di vecchio porto i pettegolezzi dell'università o gli ultimi progressi fatti dalla medicina o dalla chirurgia 6 il giorno dopo il suo incontro con Monkaus Lee smith chiuse i libri alle 8 e un quarto ora in cui di solito si incamminava verso la casa dell'amico mentre stava per lasciare la stanza per caso il suo sguardo cadde su uno dei libri prestatigli da Bellingham e gli venne uno scrupolo per non averlo restituito per quanto repellente potesse essere non meritava ad essere trattato con scortesia preso il libro scese le scale e bussò alla porta del vicino non ebbe risposta ma girando la maniglia si accorse che la porta non era stata chiusa a chiave lieto all'idea di evitare un incontro entrò e posò sul tavolo il libro insieme con un suo biglietto da visita la fiamma della lampada era abbassata a metà ma smith riusciva a vedere i particolari della stanza con sufficiente chiarezza tutto era nello stato che già conosceva il fregio gli idoli con le teste d'animali il coccodrillo sospeso e il tavolo seppellito sotto un mucchio di carte e di foglie secche il sarcofago della mummia era in piedi appoggiato al muro ma la mummia non c'era non c'era alcun segno che rivelasse la presenza di un secondo occupante e mentre se ne andava pensò ad essere stato probabilmente ingiusto con Bellingham se avesse avuto da nascondere un segreto disdicevole difficilmente avrebbe lasciato aperta la porta così da permettere a tutti quanti di entrare nelle sue stanze la scala a chiocciola era oscura come la pece e smith lentamente stava scendendo per gli scalini irregolari quando improvvisamente s'accorse che qualcosa gli era passata accanto nell'oscurità un lieve rumore un soffio d'aria e qualcosa gli sfiorò leggermente il gomito ma così debolmente che a malapena pote esserne certo si fermò e tese l'orecchio ma il mormorio del vento e il frusciare dell'eder all'esterno gli impedirono di sentire altro siete voi Stiles gridò nessuno rispose e dietro di lui tutto era silenzioso doveva essere stato un'improvvisa corrente d'aria possibile per la presenza di buchi e fenditure nella vecchia torretta eppure avrebbe potuto quasi giurare d'aver sentito un passo proprio accanto a sé era arrivato finalmente nel cortile ancora ruminando sulla faccenda quando un uomo arrivò correndo a tutta forza attraverso il prato perfettamente rasato sei tu smith salve esti in nome del cielo vieni immediatamente il giovane lì è annegato così ha detto harrington del king's college il dottore è fuori ma tu basterai ma vieni senza perder tempo forse è possibile richiamarlo in vita avete del brandy no allora ne porto un po' io ce ne deve essere una fiaschetta sul mio tavolo smith si lanciò su per le scale a tre gradini per volta afferrò la fiaschetta e stava scendendo precipizio quando passando dinnanzi alla stanza di bellingham il suo sguardo colse qualcosa che lo fece fermare a bocca aperta e con gli occhi sbarrati sul pianerottolo la porta che si era chiusa dietro ora era aperta e proprio di fronte a lui illuminato in pieno dalla lampada stava il sarcofago tre minuti prima l'aveva visto vuoto era pronto a giurarlo ora incorniciava lo scarno corpo del suo orribile occupante che stava rigido e sinistro con la faccia nera raggrinzita rivolta verso la porta il cadavere era privo di vita e inerte ma parve a smith mentre guardava che vi persistesse ancora una sinistra scintilla di vitalità qualche fievole traccia di coscienza nei piccoli occhi che si nascondevano nelle profondità delle orbite incavate ne rimase così stupito e scosso da dimenticare la sua missione e stava ancora fissando la mummia magra e smunta quando dal basso la voce dell'amico lo fece tornare in sé fa presto smith è questione di vita o di morte lo sai benissimo non perder tempo ora aggiunse non appena riapparve lo studente di medicina corriamo senza prender fiato è quasi un miglio e dovremmo farcela in cinque minuti una vita umana vale ben più di una coppa corsero come lampi gomito a gomito nell'oscurità e non si fermarono finché ansanti ed esausti non ebbero raggiunto il piccolo cottage presso il fiume il giovane lì molle e gocciolante come una pianta acquatica spezzata era disteso sul divano con i capelli neri sporchi della fanghiglia verde del fiume e le labbra grigie ricoperte di bava biancastra inginocchiato accanto lui c'era Harrington il suo compagno di studi che si sforzava con i massaggi di far tornare un po' di calore nelle sue membra irrigidite credo che non sia ancora morto disse Smith toccando il fianco del giovanotto avvicina alle sue labbra il vetro del tuo orologio si 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 appanna Asti tu prendi un braccio ecco ora muovilo come faccio io e lo rianimeremo subito per dieci minuti si accanirono in silenzio facendo sollevare ed abbassare il petto dell'amico svenuto finalmente un brivido corse per il suo corpo le labbra tremarono e finalmente aprì gli occhi i tre studenti proruppero in un irrefrenabile viva svegliati svegliati ragazzo ci hai fatto prendere una bella paura dai dai prendi un po' di brandy un sorso dalla fiaschetta adesso sta bene disse il suo compagno errington cielo che spavento mi son preso stavo leggendo qua e lui era uscito per far quattro passi sino al fiume quando ho sentito un urlo e un tonfo sono corso fuori e quando l'ho trovato e l'ho ripescato sembrava proprio morto poi Simpson non poteva andare a chiamare un dottore perché ha zoppato e allora sono dovuto correre io ma non so che cosa avrei fatto senza di voi adesso va bene vecchio mio mettiti a sedere Monkaus si era sollevato sulle braccia e si guardava intorno spaventato che succede? domandò sono stato in acqua ah si ricordo un'espressione di paura tornò nei suoi occhi e si nascose il volto tra le mani come mai sei caduto in acqua? no non sono caduto e allora? mi ci hanno buttato stavo sulla riva e qualcosa alle mie spalle mi ha sollevato come una piuma e mi ha scagliato nel fiume non ho sentito né visto niente ma nonostante ciò sapevo che cosa fosse anche io mormorò Smith ah hai compreso allora ricordi l'avvertimento che ti detti sì e comincio a credere che ne farò buon uso non so di che diamine stiate parlando voi due ma penso Harrington che se fossi in te farei mettere lì subito a letto disse Asti ci sarà abbastanza tempo per discutere i perché i per come quando si sarà un po' rimesso penso Smith che possiamo lasciarlo solo adesso io torno al college se vieni nella stessa direzione possiamo fare quattro chiacchiere ma chiacchierarono ben poco mentre tornavano a casa la mente di Smith era troppo presa dagli avvenimenti della serata per prima cosa l'assenza della mummia dalla stanza del suo vicino il passo che gli era passato accanto per le scale e infine la ricomparsa anzi la straordinaria e inesplicabile ricomparsa del macabro oggetto e poi questa aggressione contro lì così simile a quella di cui era rimasto vittima un altro cui Bellingham portava rancore tutto ciò nella sua mente finì col collegarsi con numerosi piccoli incidenti che precedentemente gli avevano reso antipatico il vicino e con le particolari circostanze in cui per la prima volta gli era stato chiesto d'andare da lui quel che prima era stato solo un debole sospetto una vaga fantastica congettura aveva improvvisamente assunto una forma precisa e alla sua mente appariva con esattezza come un fatto sinistro un qualcosa che non poteva essere negato eppure quant'era mostruoso tutto ciò quanto inaudito era del tutto al di là di ogni limite umano un giudice imparziale o anche l'amico che gli camminava al fianco gli avrebbero semplicemente detto che i suoi occhi lo avevano ingannato che la mummia non si era mossa affatto che il giovane lì era caduto nel fiume come qualsiasi altro uomo può cadere in un fiume e che un buon lassativo era la cosa migliore per un fegato in disordine sentiva che avrebbe detto le stesse cose se le parti si fossero invertite eppure poteva giurare che Bellingham in fondo al cuore era un assassino e che maneggiava un'arma quale nessuno aveva mai usato in tutta la sinistra storia del crimine Asti si era separato da lui per raggiungere il suo alloggio dopo qualche commento enfatico e incisivo sulla scarsa socievolezza dell'amico e Abercrombie Smith attraversò il cortile diretto alla sua torretta d'angolo provando una forte repulsione per le sue stanze e per quanto a esse si associasse si propose di seguire il consiglio di lì e di cambiare appartamento il più presto possibile poiché com'era possibile che si potesse studiare e persino vivere tendendo l'orecchio ogni mormorio o passo che veniva dal piano di sotto notò mentre attraversava il prato che la finestra di Bellingham era ancora accesa e mentre saliva le scale la porta si aprì e Bellingham s'affacciò con la sua faccia grassa e diabolica somigliava a un tronfio ragno orgoglioso della sua disgustosa ragnatela appena tessuta buonasera non vuoi entrare no esclamò Smith infuriato no sei occupato come al solito desideravo chiederti di lì mi è dispiaciuto apprendere che gli è successo qualcosa l'espressione era seria ma mentre parlava nei suoi occhi c'era lo scintillio di una risata nascosta Smith se ne accorse e per questo lo avrebbe volentieri atterrato con un pugno beh ti dispiacerà ancora di più sentire che Monkaus lì se l'è cavata molto bene e che è del tutto fuori pericolo i tuoi tiri infernali questa volta sono andati a vuoto oh non è necessario che tu faccia ricorso a tutta la tua sfrontatezza sono al corrente di tutto Bellingham indietreggiò di un passo allontanandosi dallo studente infuriato esso chiuse la porta come se volesse mettersi al sicuro tu sei pazzo che cosa vuoi dire affermi chi abbia qualcosa che fare con l'incidente capitato lì sì tu o no Smith tu e quel sacco d'ossa che sta dietro di te siete voi due che avete organizzato il bel tiro ti dico come stanno le cose Mastro Bellingham è vero che non si usa più mandare al rogo i tuoi simili ma abbiamo ancora un boia e per giove se qualcuno morirà nel college durante la vostra permanenza ti trascinerò in giudizio e se non ti impiccheranno non sarà per merito mio t'accorgerai che i tuoi sporchi trucchi egiziani non ti serviranno niente in Inghilterra tu sei matto da legare mormorò Bellingham d'accordo cerchi soltanto di ricordare ciò che ti dico poiché ti accorgerai che faccio più e meglio di quanto prometta poi la porta fu chiusa con violenza e Smith salì infuriato nel suo appartamento chiusa la porta chiave dall'interno trascorse metà della notte fumando la sua vecchia pipa d'erica e rimuginando sugli strani avvenimenti della serata 7 il mattino successivo Abercrombie Smith non sentì parlare del suo vicino ma nel pomeriggio Harrington gli fece visita per dirgli che lì si era quasi del tutto ristabilito per tutto il giorno Smith rimase inchiodato sui libri ma verso sera decise ad andare far visita al suo amico dottor Peterson verso cui la casa si era avviato la notte precedente una buona passeggiata e una chiacchierata tra amici sarebbero state un balsamo per i suoi nervi scossi quando passò la porta di Bellingham era chiusa ma voltandosi indietro quando fu a qualche distanza dalla torretta scorse alla finestra la testa del suo vicino che si stagliava contro la luce della lampada sembrava che premesse la faccia contro il vetro mentre guardava fuori nell'oscurità era una manna star lontano da qualsiasi contatto con lui anche se per poche ore e Smith si incamminò con passo vivace respirando a pieni polmoni la mite aria primaverile la falce della luna brillava occidente tra le guglie gotiche e ne proiettava sulla strada inargentata le lunghe ombre angolose spirava una brezza ristoratrice e leggeri fiocchi di nubi passavano rapidi nel cielo l'Old College sorgeva proprio alla periferia della città e dopo cinque minuti Smith si era lasciato le case alle sue spalle e si trovò tra le siepi di un sentiero tra i campi di Oxford tutto odoroso di maggio era una strada solitaria e poco frequentata quella che conduceva alla casa del suo amico benché fosse ancora presto Smith non incontrò anima viva lungo il cammino camminò a passo svelto finché non giunsa il cancello dal quale si entrava nel lungo viale ghiaioso che conduceva fino a Farlingford dinanzi a sé poteva scorgere le allegre luci rossastre delle finestre che ammiccavano tra il fogliame aveva appoggiato la mano al saliscendi di ferro del cancello quando si volse indietro a guardare la strada che aveva percorsa qualcosa veniva rapidamente verso di lui si muoveva nell'ombra della siepe silenziosamente e furtivamente una figura scura china vagamente visibile contro lo sfondo buio dopo che si era fermato a guardare la figura si era avvicinata di un'altra ventina di passi e stava ormai per arrivargli addosso ebbe allora la visione fugace di un collo scheletrico che emergeva dall'oscurità e di due occhi che lo avrebbero per sempre ossessionato nei suoi sogni si girò e con un grido di terrore cercò la salvezza nella fuga alla fine del viale c'erano le luci la salvezza quasi a un tiro di pietra smith era famoso per la sua velocità nella corsa ma non aveva mai corso come quella notte la pesante cancellata si era richiusa alle sue spalle ma lui la sentì spalancarsi di nuovo dinnanzi al suo inseguitore mentre correva pazzamente a precipizio nel buio della notte poteva udire un secco e rapido ticchettio dietro di sé e quando si voltò indietro per gettare una rapida occhiata poteva vedere che quell'orrore lo tallonava correndo a balzi come una tigre con gli occhi fiammeggianti e un braccio fibroso proteso in avanti grazie al cielo la porta era socchiusa poteva vedere la sottile striscia di luce proveniente dalla lampada dell'ingresso alle sue spalle il rumore risuonava sempre più vicino sentì proprio vicinissimo un rauco gorgoglio con un urlo si lanciò contro la porta la sbatté e la sprangò dietro di sé e si afflosciò mezzo svenuto su una sedia dell'ingresso bontà divina smith che sta accadendo domandò peterson comparendo sulla soglia del suo studio ti prego dammi un po' di brandy peterson disparve e tornò in fretta con un bicchiere una caraffa santi numi amico mio ne hai proprio bisogno disse quando l'amico beve d'un sorso tutto il liquore versatogli e allora caro mio sei bianco come un lenzuolo smith posò il bicchiere si alzò e respirò profondamente adesso mi sento di nuovo padrone di me stesso non mi ero mai sentito così svuotato ma se me lo permetti peterson stanotte dormo qua poiché credo che non riuscirei ad affrontare quella strada di nuovo se non alla piena luce del giorno è da deboli lo so ma non posso farci niente peterson lo scrutò con aria interrogativa è naturale che se lo desideri tu dorma qua pregherò la signora barney di preparare il letto degli ospiti ma dove stai andando adesso vieni con me alla finestra che dà sulla porta desidero che tu veda ciò che ho visto io salirono al piano superiore da cui era possibile abbracciare con lo sguardo il viale d'accesso alla casa nel viale e nei campi che lo fiancheggiavano immersi nel chiarore pacifico della luna tutto era quieto e immobile ebbene smith per fortuna so bene che bevi pochissimo ma cosa mai al mondo può averti terrorizzato te lo dirò subito ma dove è andato a finire ah ecco ecco guarda guarda là sulla curva che la strada fa subito dopo il tuo cancello sì vedo non è necessario che mi strappi il braccio però c'è un tizio che cammina direi un uomo per quanto magro da quel che si vede e alto molto alto ma che c'entra lui e te stai tremando ancora come una foglia ho sentito su di me la morsa del demonio questo è tutto ma andiamo giù nel tuo studio e ti racconterò la storia e così fece sotto la luce gradevole della lampada con un bicchiere di vino sul tavolo accanto sé e davanti la florida faccia del corpulento amico narrò in ordine tutti gli avvenimenti piccoli e grandi che si erano così singolarmente succeduti nella notte in cui aveva trovato Bellingham svenuto dinnanzi al sarcofago della mummia fino alla terribile avventura di un'ora prima ecco questa è l'intera sporca faccenda sarà mostruosa e incredibile ma ti prego credimi è vera il dottor Plumtree Peterson rimase per qualche tempo in silenzio con un'espressione molto perplessa sul viso in vita mia non ho mai sentito una cosa del genere mai mi hai raccontato i fatti ora però dimmi a quali conclusioni sei giunto tu puoi trarre le tue sì ma mi piacerebbe sentirle da te tu hai meditato sulla faccenda io invece non ancora ebbene alcuni particolari sono necessariamente un po' vaghi ma i punti principali mi sembrano sufficientemente chiari il nostro Bellingham nel corso dei suoi studi sull'Oriente deve essere entrato in possesso di qualche segreto infernale grazie al quale una mummia o probabilmente solo quella particolare mummia può essere temporaneamente richiamata in vita la notte in cui Svenne stava facendo questo disgustoso esperimento senza dubbio il vedere che quella creatura si muoveva deve avergli scosso i nervi sebbene se l'aspettasse ricordati che quando parlò si definì un grande imbecille e queste furono quasi le prime parole che pronunziò bene successivamente divenne più incallito e portò a termine l'esperimento senza venir meno la vitalità che poteva infondere nella creatura doveva essere evidentemente di breve durata poiché l'ho vista di continuo nel suo sarcofago del tutto priva di vita ecco come questo tavolo qui immagino che grazie a qualche complicato processo riesca a far camminare quell'essere fatto ciò naturalmente penso che possa utilizzarlo come suo agente la creatura è intelligente e forte non so per quale motivo ma mise lì a parte dei suoi segreti ma lui da buon cristiano si rifiutò ad essere coinvolto in un affare del genere per questo litigarono e lì giurò che avrebbe parlato a sua sorella del vero carattere di Bellingham questi evidentemente decise di prevenirlo e quasi ci riuscì facendogli dar la caccia dalla sua mummia aveva già sperimentato i suoi poteri su un altro uomo Norton al quale portava rancore è proprio un puro caso che non abbia sulla coscienza due omicidi quindi quando gli spiattellai tutta la storia ebbe buone ragioni per desiderare di liberarsi anche di me prima che io potessi parlare ad altri di quanto ero a conoscenza l'occasione propizia gli si offrì quando uscì poiché conosceva le mie abitudini e sapeva bene dove ero diretto me la sono cavata per un pelo Peterson e devo una pura e semplice fortuna se ho evitato che domattina tu mi trovassi sul gradino della tua porta normalmente non sono nervoso ma non ho mai pensato come questa notte che la paura della morte potesse tanto su di me caro ragazzo la prendi troppo sul serio hai i nervi esauriti per il tuo troppo studio ed hai troppo peso alla faccenda come potrebbe un mostro del genere andarsene in giro per le strade di Oxford pur anco di notte e senza essere visto è stato visto in città c'è del panico per una scimmia e libertà poiché tutti credono che si tratti di una scimmia è l'argomento del giorno in città ebbene è una serie di avvenimenti sconcertante eppure caro mio devi ammettere che per ogni incidente considerato isolamente si può trovare una spiegazione più che naturale che cosa anche per l'avventura di stanotte certamente esci di casa con i nervi eccitati e con la testa piena di queste belle teorie un vagabondo magro e morto di fame ti segue furtivamente e vedendoti correre si sente incoraggiato a seguirti la paura e la fantasia poi fanno il resto non è possibile Peterson non è così e inoltre per quanto riguarda la storia del sarcofago che vedesti prima vuoto e quindi dopo alcuni minuti occupato dalla mummia sai bene che c'era solo una lampada a dar la luce che la fiamma era mezzo abbassata e che tu non avevi particolari motivi per guardare attentamente il sarcofago è del tutto probabile che la prima volta la mummia ti sia sfuggita no 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 è fuori discussione questo ah e inoltre è possibile che lì sia caduto nel fiume e che Norton abbia subito l'aggressione di uno strangolatore l'accusa che tu muovi contro Bellingham è certo formidabile ma se tu la sottoponessi alla polizia questa si limiterebbe a riderti in faccia sì lo so che riderebbero ed è proprio per questo che intendo risolvere da solo la faccenda eh sì sento che ho un dovere civico da compiere e inoltre devo farlo anche per la mia sicurezza salvo che non scelga di farmi cacciare dal college da questa bestia e ciò sarebbe una vigliaccheria bella e buona ho fermamente deciso che cosa farò ma prima di tutto posso per un'ora servirmi della tua carta e della tua penna senza altro amico mio troverai tutto ciò che ti occorre su quel tavolo Abercrombie Smith si sedette dinnanzi a dei fogli di carta protocollo e per un'ora e quindi per un'altra ora la sua penna lavorò senza sosta man mano che ogni pagina veniva completata la metteva da parte mentre l'amico se ne stava sprofondato nella sua poltrona e lo guardava con paziente curiosità alla fine con un'esclamazione di compiacimento Smith si levò di scatto in piedi mise in ordine i fogli e posò l'ultimo sulla scrivania di Peterson per cortesia Plumtry firmalo come testimone testimone e di che devi confermare la mia firma e la data la data è molto importante infatti Peterson la mia vita potrebbe dipendere da essa mio caro Smith tu stai farneticando scusami se ti prego di andare a letto al contrario in vita mia non ho mai parlato con tanta consapevolezza e ti prometto che andrò a letto non appena avrai firmato ma di che si tratta è la relazione di tutto ciò che ti ho raccontato stanotte desidero che la confermi d'accordo disse Peterson ponendo la propria firma sotto quella del suo amico ecco ti accontentato ma che significa tutto ciò ti prego fammi la cortesia di conservare questi fogli e di esibirli qualora io venissi arrestato arrestato? per quale motivo? per omicidio è scritto su quei fogli voglio essere pronto ad affrontare qualsiasi eventualità non ho che una via da seguire e sono deciso a seguirla per amor di Dio Smith non fare nulla d'avventato credimi Peterson sarebbe molto più avventato ricorrere a metodi diversi spero che non sarà necessario che ti arrecchi fastidio ma il sapere che tu hai la mia dichiarazione in cui espongo le mie ragioni mi rende più sereno e ora sono pronto ad accettare il tuo consiglio e andarmene a letto perché domattina voglio essere nella mia forma migliore 8 Abercrombie Smith non era un tipo piacevole da versi come nemico lento e di carattere tranquillo era formidabile se spinto all'azione affrontava ogni compito con la stessa decisa risolutezza che gli aveva permesso di eccellere come studioso aveva messo da parte lo studio per un giorno ma voleva che quello non fosse un giorno sprecato non disse una parola all'ospite su suoi piani ma alle nove era già in cammino verso Oxford in High Street si fermò da Clifford l'armaiolo e comprò un grosso revolver e una scatola di cartucce ne fece scivolare sei nel tamburo e dopo aver tirato a metà il cane ficcò l'arma nella tasca del cappotto si recò quindi a casa di Asti il robusto atleta stava pigiramente indugiando a colazione con lo Sporting Times appoggiato alla caffettiera ehi ciao che c'è vuoi un po' di caffè no grazie ma desidero che tu venga con me Asti e che faccia ciò che ti chiederò senz'altro ragazzo mio un'altra cosa Asti tu hai una scatola di bisturi ti prego dammi il più lungo eccotelo sembra che ti sia messo proprio sul sentiero di guerra occorre nient'altro no penso che basti Smith mise in tasca il coltello e seguito dall'amico s'avviò verso la torretta nessuno di noi due è un coniglio Asti penso di farcela da solo ma per precauzione è opportuno che venga anche tu sto per avere un piccolo scambio di idee con Bellingham se me la dovrò vedere solo con lui non avrò bisogno di te naturalmente se grido tuttavia corri sopra e dacci dentro con il bastone con tutta la tua forza hai capito? d'accordo se ti sento urlare salirò fermati qua ti prego può darsi che mi trattenga un po' ma non allontanarti finché non ridiscendo ah da qua non si muove nessuno Smith salì le scale aprì la porta di Bellingham ed entrò Bellingham stava seduto dietro il suo tavolo e scriveva vicino a lui nel mucchio degli strani oggetti di sua proprietà spiccava il sarcofago con il numero 249 assegnatoli in sede d'asta ancora attaccato sulla parte superiore dentro c'era l'orribile mummia rigidamente immobile Smith si guardò intorno con aria risoluta chiuse la porta e quindi attraversata la stanza si fermò dinnanzi al camino e con un fiammifero accese il fuoco Bellingham guardava con gli occhi spalancati mentre sul suo volto gonfio si disegnava un'espressione di meraviglia e di rabbia ebbene ora sembra proprio che questa sia diventata casa tua disse Ansando Smith si sedette con aria decisa posò il suo orologio sul tavolo tirò fuori la pistola l'armò e se la mise in grembo quindi tirò fuori dal cappotto il bisturi e lo gettò davanti a Bellingham ora senza perdere un minuto mettiti al lavoro e fai a pezzi la mummia oh è di questo che si tratta disse Bellingham con un ghigno beffardo si proprio di questo mi si dice che la legge non può toccarti ma io ho una mia legge che sistemerà tutto rapidamente se tra cinque minuti non ti sarai messo al lavoro ti giuro per colui che mi ha creato che ti ficco una pallottola nel cervello mi assassineresti Bellingham si era alzato a metà e il suo viso era di una tinta simile al mastice sì e per quale motivo per porre fine alla tua malvagità un minuto è passato ma che cosa ho fatto lo so io e lo sai tu questa è una spacconata bella e buona sono trascorsi due minuti ma devi fornirmi almeno delle ragioni sei un pazzo un pazzo da legare perché dovrei distruggere ciò che mi appartiene è una mugna di grande valore devi farla a pezzi e bruciarla no non farò una cosa del genere sono passati quattro minuti Smith sollevò la pistola e guardò Bellingham con aria inesorabile quando la lancetta dei minuti ebbe fatto un altro giro sollevò la mano e il dito gli si contrasse sul grilletto fermo fermo lo farò strillò Bellingham con rapidità frenetica afferrò il bisturi e si dette a fare a pezzi la mugna volgendosi ogni tanto a guardare la faccia e l'arma del suo terribile ospite che lo sorvegliava da vicino a ogni colpo della tagliente lama la mummia scricchiolava seccamente dal corpo si levava una polvere densa e gialla spezie ed essenze essiccate cadevano sul pavimento improvvisamente con uno schianto lacerante la colonna vertebrale si spezzò in due parti e la mummia cadde sul pavimento in un mucchio di membra ormai scomposte e ora nel fuoco disse Smith le fiamme ravvivate balzarono verso l'alto e ruggirono quando quei resti secchi e infiammabili furono buttati nel caminetto la stanzetta pareva la sala caldaie ed una nave a vapore e il sudore scorreva sui volti dei due uomini tuttavia uno era lì piegato a lavorare mentre l'altro seduto lo guardava senza muovere un muscolo un fumo denso e grasso si levava pesantemente dal fuoco e un greve odore di resina bruciata e di capelli bruciacchiati riempì la stanza nel giro di un quarto d'ora dell'otto numero 249 non era rimasto altro che un mucchietto di pezzettini carbonizzati e friabili forse sarai ora soddisfatto rindio bellingham volgendosi indietro a guardare il suo persecutore con i piccoli occhi grigi pieni di odio e di paura insieme no devo far piazza pulita di tutto il tuo materiale non devono esserci altri trucchi diabolici nel fuoco tutte queste foglie via può darsi che c'entrino anche loro e che altro ora chiese bellingham quando anche le foglie ebbero alimentato le fiamme adesso tocca al papiro che avevi sul tavolo quella notte credo che sia nel cassetto no no urlò bellingham non bruciarlo tu non sai proprio che cosa stai facendo è unico ci sono insegnamenti assolutamente introvabili altrove buttalo nel fuoco ma ma un momento smith non è possibile che tu lo voglia veramente ti metterò a parte da ogni segreto ti insegnerò tutto ciò che c'è scritto nel papiro oppure aspetta fammelo soltanto copiare prima che tu lo bruci smith si avvicinò al tavolo e girò la chiave del cassetto tirato fuori il rotolo giallo del papiro lo gettò nel fuoco e lo pestò col tallone bellingham strillò e cercò d'afferrare il papiro ma smith lo respinse e non si mosse di lì finché il rotolo non si ridusse a cenari in formi ora mastro bellingham credo d'averti strappato completamente gli artigli ti prometto che avrai di nuovo mie notizie se userai di nuovo ancora i tuoi vecchi trucchi e ora pui che devo tornare ai miei studi ti auguro una buona giornata e questo è il racconto degli strani avvenimenti accaduti a Oxford nell'Old College nella primavera dell'84 fatto da Abercrombie Smith poiché immediatamente dopo bellingham lasciò l'università e corse voce che fosse nel Sudan non c'è nessuno che possa confutare quanto narrato da Smith ma la scienza degli uomini è piccola e misteriose sono invece le vie della natura chi potrà quindi porre un limite alle scoperte di coloro che con passione si inoltrano nel mondo dell'ignoto fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare la mummia di Sir Arthur Conan Doyle grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto